eccoci nuovo tutorial dedicato ai millesimali vediamo appunto come procedere all'attivazione della nostra licenza allora qui abbiamo installato quello che è il nostro software in versione demo procediamo appunto ad attivare quella che è la licenza quindi andiamo nel menu help attiva licenza oppure direttamente cliccando qui in alto l'icona della chiave ci permette di aprire quella che è la finestra di inserimento del seriale andiamo inserire il nostro seriale ed ecco qui abbiamo attivato quella della nostra licenza possiamo procedere a riattivare quindi ad aprire di nuovo il software i millesimali e quindi avere praticamente la licenza pronta e operativa per poter lavorare appunto con il software eccola qui la nostra licenza è stata correttamente attivata se vogliamo appunto procedere a quella che è la disattivazione del nostro seriale per perché vogliamo installare il software su un'altra postazione tranquillamente possiamo andare sul menu help disattiva oppure andare direttamente sull'icona qui in alto della chiave e fare disattiva licenza vuoi disattivare la tua licenza sì in questo modo verrà il programma verrà disattiverà appunto la licenza e verrà praticamente chiuso se adesso andiamo aprire di nuovo il nostro software vedremo che in automatico si dà la possibilità quindi di vedere che siamo in modalità demo questo mi permetterà comunque sempre di aprire i nostri file di salvataggio anche in versione demo infatti io posso andare ad aprire il mio file di progetto e andarlo a visualizzare